La ringrazio per la prima domanda perché, insomma, se Dio vuole, se tutto va bene, tra qualche mese nascerà il mio primo figlio. Quindi, spero che mi perdonerà per tutto lo stress che il poverino sta dovendo subire. Ovviamente per me sarà una premura quella di fargli i vaccini, a tre mesi, quando lui sarà nato farò i vaccini esattamente come tutti gli altri cittadini italiani che hanno vaccinato il 96% dei bambini.